Presidente della cantina dei Colli Morenici, Presidente bentornato. Buongiorno a tutti voi. Io aggiungo sempre Del Garda perché ai Colli Morenici ci sono in varie parti del mondo, per esempio in un punto più vicino a Francia Corta, quindi Colli Morenici e Del Garda. Parliamo di questi, assolutamente. Allora, gli ascoltatori ci sono invitati come sempre a partecipare. Ricordo la pagina Facebook sulla quale siamo in streaming, che è il Gazzettino Nuovo e Temporadio, e il numero per sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105. Avevo promesso ad alcuni ascoltatori, i cui messaggi non avevo fatto in tempo leggere la volta scorsa, che li avrei letti oggi. Tra quelli c'era, ho fatto un corso di degustazione, ma come si fa a sentire la ciliega o la fragola? Io sento solo amaro o dolce, dice Fede. Però i degustatori sono una cosa. Può capitare, sul senso che il palato deve essere affidato quando fai le degustazioni di vino. Poi c'è quello che è più portato per dotti naturali e quello un po' meno portato, però direi che quasi tutti possono fare delle degustazioni con un po' di allenamento. Allora innanzitutto quando si assaggia il vino bisogna togliere la prima sensazione, che è quella dell'alcol e quella del sentore di vino in generale. Poi al di sotto di quello, con un po' di attenzione, va bene, si va a scoprire le altre sensazioni. Allora sono a temperatura di palato diverse. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima hai una sensazione, poi ascolti la seconda, tenendo in bocca il vino che si riscalda, poi ascolti la terza, la quarta, fino a che poi fai la deglutizione e alcune sensazioni si sentono nel retrogusto, cioè dopo aver mandato giù il vino. Ecco, vorrei precisare una cosa. Mandare giù il vino. È sufficiente un cucchiaino di vino in bocca per fare una degustazione? Non mi ha bisogno di una sbocconata, insomma. È sufficiente, ecco. Addirittura, va bene, anche quel cucchiaino, se si vuole fare più di una degustazione, va bene, si può sputare nella sputacchiere, va bene, e poi deglutire quella minima dose che è rimasta sulla lingua. È sufficiente quello. Poi se vogliamo fare delle degustazioni occorre del tempo e occorre non bere vino, bisogna non berlo, va bene. Allora si può arrivare, alcuni arrivano fino a 20 degustazioni, io una quindicina, poi ti si imballa il palato, perché va in saturazione. Alcuni arrivano anche una cinquantina di degustazioni e sanno ancora ricordarsi, va bene, il primo bicchiere che hanno assaggiato. Io ho organizzato delle degustazioni nel quale ho messo dentro un vino in ultimo, dopo una cinquantina di degustazioni che era stato messo fra le prime degustazioni, e uno mi ha detto che questo qua l'abbiamo già sentito, cioè sono dotti naturali. Ma quello che sta dicendo lei, Presidente, è vero, lo dice la scienza medica, e ci sono i grandi gustatori che sono quelli, per esempio, che non riescono a prendere alcuni alimenti, per esempio la birra, perché la sentono talmente amara, non riescono a mandarla giù. Io, per esempio, sento la birra amara. Certo, per cui appunto, e questi hanno, sono i cosiddetti grandi gustatori, normalmente si è medi gustatori o cattivi gustatori, di solito. Comunque una decina di vini li assaggiano, tutti li possono assaggiare. Le chiedevano anche, le chiedevano che cos'è la ribolla. La ribolla è una varietà, una varietà con la quale, la ribolla gialla con la quale poi si fa il vino. Benissimo. Allora, possiamo chiederle ora invece, Stefano Di Medole, Gandini salve, sono venuto alla cantina un mese fa circa, e mi sono trovato benissimo, quanta roba che avete, non immaginavo. Grazie. Allora, al nostro ascoltatore, assolutamente, il torno è ancora. Diciamo, preparate carta e penna, perché li diamo adesso tra poco, e poi li daremo anche alla fine dell'appuntamento, le coordinate per trovare la cantina dei Colli Moreni. Ci possiamo dire dove si trova? Si trova a Ponti sul Mincio, sulla strada da Monzambano per andare a Ponti, o da Ponti per andare a Monzambano, uguale, va bene, è quasi vicino a Monzambano, c'è un bel piazzale, si vede un piazzale enorme, nel quale facciamo anche eventi, va bene, raduni, di corsi, eccetera, va bene, e si trova lì, strada da Monzambano 75, numero di telefono 0376 809 745, info chiocciola a cantinacollimorenici.it. Benissimo, poi li ripetiamo. Allora, uso un messaggio per introdurre un altro argomento, Presidente, col panetù, dice, è meglio il spumante dolce o secco? Quindi parliamo di abbinamenti. così di abbinamenti, sì, beh, insomma, gli abbinamenti, il panettù è una cosa dolce, va bene, e di conseguenza stanno bene spumanti dolci. Poi, siccome che è un po', come si può dire, grasso, va bene, perché, insomma, il panettone ti lascia la buca un po' unta, io preferisco degli spumanti, non dei vini passiti, va bene, dolci, spumante dolce, è un bel abbinamento. Poi, come dicevo l'altra volta, se a uno non piace il dolce, non piace la sensazione dolce, va bene, beve quello che ne ha voglia, insomma. Beh, vabbè, quello mi disse il proprietario di una cantina una volta, che l'importante è che incontri il tuo gusto, dopo... Esatto, esatto, esatto. Allora, parlando della degustazione, c'è un messaggio, dice, ho visto alcuni sommelier che appoggiano il vino al naso, perché, e io le aggiungo anche, a Carpenedolo mi è successo, un sommelier mi ha fatto sentire, annusi prima il vino e senti un odore, poi mi fa, adesso aspetta 30 secondi, riannusalo, e ne senti uno diverso, ed è vero. Sì, è un po' così, sì, l'altra tecnica è quella di annusare lentamente, innanzitutto, la degustazione si fa prima alla vista, perché la vista ti dà determinate impressioni, la seconda è al naso, perché al naso si sentono molti, il naso ha circa 200 volte le caratteristiche del palato, e poi perché al naso, se annusi una cosa scadente, sgradevole, aspetti un attimo e il naso è subito risettato, lo puoi annusare a quella buona subito. Al palato invece, una volta che hai deglutito un vino acido, un vino che è ossidato o roba del genere, non puoi più andare a degustazione, fai fatica insomma. Certo, possiamo dire che fuori onda stavamo citando l'infinocchiatura, che era quando davano il finocchio, così la bocca non capisce più niente, da lì viene. Ecco, allora la tecnica cos'è? È quella di annusare, annusare, allora, annusi, come si fa ad annusare? perché anche lì è una tecnica. È la tecnica poi, nel quale nei laboratori funziona il gas crobatografo, no? Allora, tu annusi lentamente e per lungo tempo. Annusando lentamente e per lungo tempo, prima senti la sensazione, un odore, poi ne senti un altro, poi ne senti un altro, poi ne senti un altro, e da lì vai a identificare i vari tipi di profumi. faccio un esempio, che è un esempio molto, che calza, voi entrate in una stanza, buttate per terra un po' di candeggina, e un po' di benzina, va bene, poi andate fuori, ritornate dentro nella stanza, cosa sentite? Il primo è l'odore della benzina, che è la più volatile, state lì un po', e sentite l'odore della candeggina, non sentite più quello della benzina, perché vanno in saturazione, i ricettori, va bene, quelli si saturno, e altri ricettori sentono, quella è la tecnica abbastanza semplice, voglio dire, qualsiasi può allenarsi ad annusare i cibi, annusare in cucina, tutto quello che volete. E scoprire questo universo, perché non è vero che, Presidente, che l'uomo non sente più niente, e diciamo che si è disabituato a sentire. Si è disabituato, se voi andate in campagna, e incominciate a riconoscere le erbe, un fiore non è soltanto un'erba, va bene, ha un nome, va bene, è un bel allenamento, anche curioso, stropicciate la foglia, annusatela, va bene, è una curiosità che i bambini, si dovrebbe abituare da bambini, è divertentissimo, è molto bello, si ama la natura, in questa maniera. Non per niente si parla di agri-cultura, appunto, perché è una cultura proprio, come quella, è proprio una cultura. A che punto è la creazione di un'etichetta che ci rappresenti come zona produttiva? Lo hanno fatto dappertutto, e noi no, chiede Danilo. Danilo l'aveva già scritto la volta scorsa su questo, e oggi l'ha rifatto. Un'etichetta che rappresenti il Colle Mantovani, già una denominazione ci rappresentava il Colle Mantovani, non è mai decollata, le etichette ci sono, però occorrono che siano supportate da adeguata pubblicità, allora se siamo in tre a fare la pubblicità, più di tanto non siamo notati, se siamo in 300, sì. Nell'Alto Mantovani ci sono una decina di aziende, va bene, e con una decina di aziende, purtroppo non è che si possa fare quel gran chiasso che si dovrebbe fare. Certo. Adesso con il Consorzio Tutelavini abbiamo modificato, stiamo per modificare, e lo modificheremo penso entro il 2017, perché occorrono dei tempi tecnici, modificheremo il disciplinare in modo tale che l'Alto Mantovano abbia soltanto eccellenze. Adesso c'è Garda Colli Mantovani, dove abbiamo dentro Merlot, Cabernet, eccetera. C'è il Garda Doc, che ha dentro Merlot, Cabernet, cioè è il doppione del Garda Colli. Allora, per avere una maggior visibilità e dal momento che nel Garda Doc ci sono più aziende, perché la zona va da Soave al Bresciano, va bene, passando per noi, ci sono più aziende, confidiamo che il Garda Doc possa avere una maggiore visibilità. Ecco. Non ha senso fare le stesse cose con il Garda Colli. Allora, nel Garda Colli solo le eccellenze. Il nostro rubino, il nostro chiaretto, va bene, il rubino, che poi è in rosso, molto buono, va bene, li andiamo a fare con una tecnica di leggero invecchiamento, in modo tale da avere soltanto le eccellenze. e speriamo che... Poi, le etichette, le etichette non è neanche difficile farle, le etichette che rappresentavano il Colli, la cantina le aveva dal 75-76, le abbiamo fatte fino a due anni fa, un'etichetta con dentro i sei castelli dei sei comuni dell'Alto Mantovano. Ce l'abbiamo per quello. Allora, dunque, per la visilia di Natale, torniamo agli abbinamenti, col pesce, cosa sta bene? Siamo in 23, non vorrei spendere un capitale. Beh, a parte i complimenti, perché mi hanno dato il messaggio perché sono in 23, che sono in tanti. Bene. Possiamo anche abbattere alcuni tabù, posso dire, lo scorso fine settimana sono stato in Sicilia, ospite a Varanzo, tutto quanto a base di pesce, eccetera, il sommelier ci ha portato un rosso. Perché? Cioè, questo è un tabù, molti credono che non si possa, si può, e come? A seconda. Sì, d'accordo. A seconda di che cosa. Sì, ma poi dipende come è fatto il pesce, no? Esatto. Il pesce è in bianco, proprio assolutamente, il vino, una trotalessa, vabbè. Insomma, il cibo non deve uccidere il piatto. Questo, no? Allora, il centropasto, che cos'è? Per fare gli abbinamenti occorrono quattro elementi, allora, cioè quattro elementi proprio di basilare. Allora, innanzitutto individuare quello che è il centropasto, centropasto che piatto è? E lì ci si va a abbinare un vino, magari leggermente lavorato in legno, noi ce l'abbiamo in cantina, abbiamo dei produttini interessantissimi, bianco che a me, poi a me particolarmente è gradito, va bene. Mi piacciono un po' tutti, però il bianco ne sono affezionato. È uno chardonnay, lavorato sei mesi in legno, non costa un granché, va bene. è fantastico da abbinamento però con piatti piuttosto importanti. Poi, prima, va bene, si deve usare della roba più leggera, logicamente ci sarà un primo piatto, forse a base di pesce o comunque più leggero. Non penso che se il centropasto è a base di pesce, va bene, ci sia un primo piatto di tagliatelle con ragù di carne. Insomma, mi pare che sia un po', ecco, ci sarà ancora base di pesce per cui useremo un bianco normale. Tornando ancora più indietro, va bene, si fa un bianco di entratura, beh, uno spumante, un frizzante, qualsiasi, se vogliamo, anche come antipasto e come aperitivo. Va bene. Poi, si va oltre, dalla parte di là e si va a mettere, oramai finito di mangiare, si va a mettere un col dolce, un vino dolce. frizzante, spumante, se sono dolci alla crema, in maniera che ti pulisci la bocca, va bene, se sono dolci secchi, un passito, un vino dolce secco, un vino dolce, diciamo, da, come si può dire, dolce, ma non mosso, ecco. Non mosso, certo. È sempre. Le bollicine puliscono la bocca dai grassi. Dai grassi sono cremosi. E dalle creme, ecco. Che vino si usa, le chiedono per il vin brulé, volevo farlo, ma non so. Beh, il vin brulé, di brulé, va bene, cioè, si fa evaporare tutto, lo si fa cuocere, mettegli qualsiasi cosa, insomma, basta che lo sia aceto, ma vaporizza anche l'aceto, l'aceto acetico vaporizza. Una volta cosa si fa bollire? Usualmente si usa del vino rosso, ma senza delle pretese di avere dei vini importanti. Possiamo suggerire di non speziarlo troppo. Sì, ecco, sì, ecco, non mettete troppe spezia. Ecco, sì, appunto, prima non si sente più vino, no, ma poi dà fastidio allo stomaco. brucia lo stomaco. Non siamo di Casablanca, in Tunesia, dove facciamo i primi piatti con il curry, esatto, esatto. Non lo siamo abituati. Ma esiste, le chiedono un novello doc, punto di domanda? No, il novello, che mi risulti, adesso è andato giù di moda, però il novello è una tecnica di cantina. Sì, certo, il bojolet è una orsè, una doc, bojolet nouveau. In Italia non mi risulta che abbiano fatto dei novelli denominazioni di origine. Benissimo. I novelli è una tecnica di lavorazione di macerazione carbonica, durano fino a dicembre, gennaio, poi, insomma, sono destinati a finire presto. Dunque, io so che lei è molto aperta a questi nuovi imbottigliamenti, diciamo così, ho visto, ci sono le bottiglie da mezzo litro, ma cosa cambia oltre al prezzo? A me piacciono di più, e a ciò c'è un altro messaggio, purtroppo abbiamo poco tempo, il vino nella carta è meglio che alla spina, punto di domanda. Ma, normalmente, alla carta, intendo dire... Alla carta, forse nei ristoranti, cioè sul menu? Sì, sul menu. Beh, normalmente si deve pretendere che sia migliore, perché quello alla spina è un vino di solito, comune, dignitoso, per chi ha voglia di bere un bicchiere di vino senza tante pretesse. Un vino alla carta, perché c'è la bottiglia, va bene, e si... nome e cognome del produttore, e si pretende che sia di livello qualitativo superiore. Ecco, anche se troviamo delle osterie o delle trattorie o bar o anche ristoranti che danno del vino in caraffa, ma è buono, insomma, perché dobbiamo tenere presente che il vino in caraffa costa di meno, ma però quando si fa una bottiglia, va bene, una bottiglia dà 5 euro. Quello che va l'agricoltore si è da mezzo euro, il resto è tutto e l'IVA, e l'etichetta, il tappo, il cartone, eccetera, cioè tutte queste spese, ecco. Quando si va in una cantina e alla spina si prende un vino da un euro e mezzo, va bene, e l'agricoltore ci guidaia di più che non vendere a 4 euro una bottiglia di vino. Ecco. Allora, altro messaggio, ho bevuto un vino australiano, le giuro che si vivesse di lastra e stemio, saluti e complimenti. Ah beh, sì, ma oddio, no, in Australia ci sono dei buoni vini, buoni vini. Logico che, però, io dico, non possiamo competere, l'Australia non può competere con l'Italia o con la Francia per variabilità di prodotto. Noi siamo una fetta di terra, l'Italia, sto parlando dell'Italia, una fetta di terra che va in mezzo al mare con monti e quote altitudini diverse. Facciamo un fottio di vini e tutti di un ottimo livello. Perciò, se vogliamo, variabilità di prodotti, non c'è Canada, non c'è Australia, non c'è Stati Uniti, Nappavalle, i buoni, quelli del Nappavalle, ma sono fermi lì. Noi, quanti vini abbiamo? Gandini, che le chiedono, per gli agnolini e il leso, un rosso va bene? Quale? Beh, un rosso non importante, dai, non troppo, insomma... Bisogna vedere se li fanno in brodo, se li fanno in brodo. Sì, sì, se li fanno in brodo. Sì, io preferirei un bianco, perché gli agnoli, altrimenti, ma devi andare a trovare un chiaretto, un rosso, un chiaretto sarebbe meglio, dai, un rosso, però, un rosso abbastanza leggero. Allora, ricordiamo quello che ha detto il Presidente, che il vino non deve uccidere il piatto e viceversa. E viceversa. Siamo in chiusura, leggo anche, bravi, la cantina è sempre rifornitissima, grazie, le chiedono anche Prosecco, Valdobbia, va bene, Franciacorta, Valdobbiadene. Sì, il Prosecco è molto di moda, è richiesto, il Franciacorta, altra tecnica di lavorazione, comunque, il Franciacorta è un vino più quotato, dipende uno cosa vuole bere. Ovviamente, il Prosecco si adatta di più come aperitivi, come entratura, se si vuole qualcosa di un po' più importante, io preferirei un Franciacorta. Benissimo, grazie, così ha dato appunto il suo parere. Siamo in chiusura, dicevamo, noi ringraziamo il Presidente della Cantina di Colli Moreni, Domenico Gandini, preparate dei cesti natale? Sì, ci sono, sono già confezionati, abbiamo cesti per tutte le tasche, va bene, qui, in strada Monzambano 75, a Ponte sul Mincio, va bene, venite a trovarci, lì ci sono le nostre ragazze che vi accoglieranno con cortesia. Grazie Presidente, grazie. Grazie a voi.